Sesto appuntamento della nostra carriera pilota con Sebastian Vettel, il suo ritorno in Formula 1 sta andando veramente alla grandissima, siamo al momento terzi in classifica, sia piloti sia costruttori ma a pochissimi punti di svantaggio da Oscar Piastri e un pochino di più da Max Verstappen ma siamo al chiamiamo di Miami quindi c'è ancora una stagione intera da giocare, da vivere per provare a vincere il nostro quinto titolo mondiale, riportare il mondiale a Maranello in casa Ferrari quindi partiamo subito senza ulteriori chiacchiere ma voi mi raccomando come sempre mi piace, commentate, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto vi lascio al giro della qualifica sprint e noi ci ribecchiamo in griglia per la sprint Dimenticatevi P-Stop, lasciate perdere la gestione del carburante, sarà solamente una questione di premere l'acceleratore a tavoletta mentre ci prepariamo per la gara sprint di oggi Collocato sulle coste del sud-est della Florida, il circuito di Miami si snoda per 19 curve e 5 chilometri e 400 metri Il layout è stato ideato per incentivare l'azione ravvicinata e garantire la massima sicurezza ai piloti e ai fans che sicuramente avranno di che divertirsi E ora analizziamo la griglia di partenza della gara sprint di oggi Max Verstappen ha fatto un gran giro ieri e oggi è in pole position E in seconda posizione c'è Charles Leclerc Proseguendo lungo la griglia queste le posizioni Fernando Alonso, Norris, Perez, Oscar Piastri, Russell, Hamilton, il veterano, Stroll, Gasly, Ocon, Magnussen, Albon, Zunoda, Ricciardo, Sir John, Bottas, Zoo, Nico Hülkenberg, completa la griglia Ed ecco giunto il momento di scendere in pista Ne è passato di tempo da quando abbiamo lavorato insieme ma eccoci di nuovo qua Io e Davide Varsecchi pronti a ripartire Beh dicono che cambiare aiuti a ricaricare le energie E anche se non c'è da riposarsi granché con il formato sprint di oggi È sicuramente un netto cambiamento rispetto a ciò a cui siamo abituati in pista So bene quali sono i nostri ultimi preparativi prima della gara di oggi Ma cosa mi dici dei piloti? Come ci si prepara a mettersi al volante? Beh, ogni pilota ha il suo rituale per gara Basta farci caso C'è chi ascolta la musica con le cuffie Chi saluta il pubblico cercando di assorbire la loro energia Alcuni preferiscono concentrarsi su se stessi Parlare con gli ingegneri Cercare di assimilare le ultime informazioni Che potrebbero fare la differenza più avanti I rituali per gara sono utili per rendere la preparazione più metodica e costante Con così tanti gran premi in una stagione Più sei in grado di mantenere una tua routine Più riuscirai a sentirti il tuo agio in un ambiente del genere Allora, so che nell'abitacolo fa caldo La voglia, mamma mia Certo, certo Fa un caldo che non ti dico Allora abbiamo 5 giri di questa sprint E vogliono farceli fare tutti con la soft Diciamo che su questa pista comunque la soft funziona anche abbastanza bene Quei 5 giri dovrebbe anche durarli A differenza dello scorso gran premio in Cina In cui veramente non durava nulla Però siamo lontanissimi Siamo lontanissimi Siamo noni Siamo ovviamente a un passo solamente dalla zona punti per la sprint Però Max Verstappen è lì È primo È primo Questa è una pista veramente del cavolo E niente O la va o la spacca Come va va Andiamo ragazzi Subito in pista Dai Frizione Accelatore fino all'asfalto E via E via 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 Cerchiamo di far bene Dai Buona partenza Attenta Che siamo lì Siamo in zona punti Ora bisogna solo tenerla però Attenzione ai cordoli Ecco Questa È la parte Che più mi dà problemi Soprattutto in qualifica Più che altro Perché non riesco a capire come Vada presa questa Questa curva Infrenata Non riesco veramente a A capacitarmene Oh Plop 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 Vabbè Finché non ci dicono Niente di male Abbiamo neanche rotto Mamma mia Abbiamo tagliato tutto Tutto ciò che si poteva tagliare Vabbè Diciamo che sta sprint Sulla pista Su questa pista qui Va bene anche Va bene anche Abbiamo combinato un casino Un casino Un casino Ma va bene Prendiamo a superare Norris qui Attenzione E siamo in quinta Questo era un sorpasso Anche abbastanza lecito Secondo me Ma lì Lì proprio no Lì mi sa che abbiamo fatto Un po' Qualcosa di Altamente illegale Ecco io sta Qua Qua Non capisco Dove che devo frenare Come devo frenare Una volta mi esce Dieci No Io veramente Non riesco a capirla Sta Sta pista Mi fa veramente Schifo No Il DRS Che si è rotto Ma proprio adesso Ma vaffanculo Va Ma che vuol dire Vabbè Ce lo meritiamo Ce lo meritiamo Dai Diciamo che un po' Ce lo meritiamo Sto trattamento Del DRS Abbiamo fatto Sporchezza Lì E ce la meritiamo Un pochino ce la meritiamo Bisogna pagare Il giusto Ma qua Con l'ERZ Riusciamo a stare Dietro Perez Ma Scusa Perez Scusa Però devo passare Ci sono i miei compagni Qui davanti Che Hanno bisogno Di me Eh grazie Che non è vero Però grazie Comunque Avessimo anche Il DRS Sarebbe tutto Diverso Però Cosa vuoi Di più Dalla vita Un Lucano Attenzione P-O-E-Z Arrivato Arrivato Ok Hai perso Ma che ho perso Ma che ho perso Togliti dal cazzo Perez Mamma mia Mamma mia E c'è Ma sta appena Che cazzo Rolendo E c'è Ma sta appena Scappato via Ma sta appena Scappato Un po' di ERZ Un po' di ERZ Andiamo a prendere Alonzo Dai 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 Staccatona Da brivido Bravo Beh Mamma mia Nostro Sebastian Comunque In staccata È fortissimo Oh il DRS Finalmente Che culo Grazie E qui un po' di strategia Io un po' di strategia Ricarichiamo l'ERZ E lo spariamo tutto qui Dai 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 Andiamoci a prendere le clerche Andiamocelo a prendere Andiamocelo a prendere Ormai Verstappen è andato Ma almeno il secondo posto Dobbiamo prendercelo Dai Che cazzarola fai Che cazzarola fai Coglione Ma vaffanculo Vale clerche Ma dove vai Ma dove vai Porco tutto Ma sto attaccando Dalle Dall'interno Non puoi andare così Siamo compagni di squadra Ma vai Ma dai Sei proprio un figlio Di una bal dracona Monegasca però Vieni 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 Bastardo vieni Mi distrugge V'ammazzo a tutti V'ammazzo A tutti V'ammazzo A tutti Abbiamo tenuta L'abbiamo tenuta L'abbiamo tenuta Zitti Zitti Non si sa come Ma l'abbiamo tenuta Ho distrutto Tutta la macchina Per chiarità Però vaffanculo Le clerche Guarda Non gira più Non gira più Non gira Via via Spara tutto Spara tutto Spara tutto Ancora qua stai Ancora qua stai Bastardo Non vi vogliamo fuori Entrambi Eh infatti Solo le clerche Bastardo Devi morire Ok via libera Se l'è meritato Se l'è meritato Ditemi voi sotto Nei commenti Se se l'è meritato Oppure no Lo ha meritato Lo ha meritato Lo ha meritato Le clerche Dai E questa non è neanche La prima volta Che succede Tra le clerche E fette Un po' di battipecchi Ci sono stati Negli anni scorsi E ritornano anche qui Ritornano anche qui Mi dispiace però Non ti puoi comportare così Non ti puoi comportare così Siamo sulle coste della Florida Per il Gran Premio di Miami L'undicesimo tracciato statunitense Entrato a far parte della Formula 1 Gli spalchi Gli spalchi sono pieni di fans Pronti a fare un tifo sfrenato Per quella che si preannuncia Una gara fantastica L'autodromo internazionale di Miami Si snoda intorno all'Hard Rock Stadium Con i suoi 5 km 4 e 19 curve Garantirà una gara eccitante E colma di scontri Ruota ruota Prima di iniziare Rivediamo le posizioni Sulla griglia di partita Max Verstappen Ha fatto un gran giro ieri E oggi è in pole position E il veterano completa la prima fila Quindi il resto della griglia Leclerc Peretz Fernando Alonso Russell Oscar Piastri Norris Stroll Gasly Ocon Hamilton Zunoda Albon Hulkenberg Zu Ricciardo Magnussen Bottas E Logan Sergent E' quasi il momento di accendere i motori Andiamo in pista E qui con me nella cabina di commento C'è un amico di lunga data Davide Valsecchi So bene quali sono i nostri ultimi preparativi Prima della gara di oggi Ma cosa mi dici dei piloti? Come ci si prepara a mettersi al volante? Beh ogni pilota ha il suo rituale per gara Basta farci caso C'è chi ascolta la musica con le cuffie Chi saluta il pubblico cercando di assorbire la loro energia Ma ve ne siete accorti di quante volte dicono la stessa cosa Vanzini e Valsecchi C'è hanno solo una fra Una scambio di battuta per ogni pre gara Hanno sempre quello Noi ci prepariamo così Ma i piloti come si preparano? Alcuni fanno questo Alcuni fanno... E' sempre la stessa Non ci hanno battute diverse E' una cosa veramente incredibile Allora abbiamo come strategia Soft media 6 e 8 Direi che va anche bene Secondo me Ora non so quanto si possa usurare in 6 giri Però guardando la sprint Dove sicuramente l'abbiamo usurata ancora di più Secondo me ci può anche stare Però bisogna fare un inizio gara abbastanza attento Però con Verstappen lì Ha un solo decimo di distacco in qualifica E avercelo di fianco a noi Deve essere un attacco subito potente Per provare subito a mettercelo dietro Attenzione curva 1 subito Passa Seb Passa Seb Siamo lì Ci siamo messi davanti Una buona partenza Ora Leclerc dovrebbe darci una mano Spero Spero ci dia una mano Io provo a scappare via già da adesso Io provo a scappare via già da adesso Niente E' incollato Max E' incollato E' super incollato Max Oh E che cos'è? Oh Facciamo parlare i motori Facciamo parlare Andiamogli la scia Andiamogli la scia Andiamogli la andiamogli Non te la voglio dare Mi metto distante Cerchiamo di andare via Di scappare Dai 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 Si può fare Si può fare La cosa brutta La cosa brutta è che io non so Cioè io non guadagno mai in questa pista Se non sul rettilineo Se non sul rettilineo Perché le curve Veramente alcune Non riesco proprio ad affrontarle Soprattutto questa Cioè questa è quella dove perdiamo di più In assoluto Qui perdiamo anche un decimo Quasi due forse Passato Max Attenzione Ok hai perso Si si va bene Va bene Va bene Dai tranquillo Devo capire Loro come cazzo Le fanno le curve Cioè come fanno Quella curva Più che altro Dai ora ce l'abbiamo noi Il DRS Dai Vieni Max vieni Facciamo un po' di Di hot up Si mette all'interno Lo copre bene Facciamo lì lo spazio E' sempre lui davanti Ora però dobbiamo passarlo Ora dobbiamo passarlo Vai vai Lo spazio li ho lasciato Lo spazio c'era Cioè mi sto comportando Molto più Dignitosamente Rispettoso Con Con Max Che è il nostro rivale Dobbiamo battere lui Per riportarci il mondiale a casa Piuttosto che con le clerk Che è il nostro compagno di scuderia Incredibile sta cosa Non ti preoccupare Non ti faccio la staccatona Ma no Aia Bomba Pesa E qui Tagliamo Non so se è in maniera regolare Ma usciamo Molto forte da lì Salvo poi quest'ultima curva Uscire lenti No 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 Ormai li ho capiti Sì giochetti Grazie Grazie Ci stiamo avvicinando alla finestra del big stop Ok Tornato anche le clerk Prima era un secondo da Da Max Però giustamente con queste lotte Si stanno un po' riavvicinando tutti A noi che ce ne fotte Io spero che siano Loro a darsi fastidio adesso A quanto pare no ancora Non ancora Non ancora Non è il momento giusto per Che si diano fastidio Oh mamma mia Fa un caldo assurdo ragazzi Vai attaccatevi voi Per favore Datevi fastidio Le clerk Maledetto Stai lì Attaccalo Usa un po' di hertz Usa un po' di tutto Vai a dare fastidio a Max Perdete tempo Lasciatemi scappare via Sono proprio bastardo Comunque Bastardo dentro Le clerk Vedi che te lo sei meritato Allora quel trattamento Eh però un po' di filo da torce Lo dobbiamo da Max E che noi ci possiamo far Superare così Come se niente fosse Guarda che bastardo Mi stava allungando Dentro mi stava allungando Bastardone Speriamo tutti Si azzompi la macchina Vai le clerk Sei a tre decimi da lui Fattola prendere Vattola Non attacca le clerk Non attacca Mamma mia Che Eh grazie E ora Entriamo Rentriamo Dai Stiamo tornando Stiamo tornando Chi rientra con noi? Max? È rientrato Max Oddio Attenzione Per favore E vai però Vai 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 Cosa? Se non mi lasci andare Dove vado? Abbiamo effettuato Tutte le soste A disposizione C'era qualcun altro Che era entrato Che era entrato In box No perché se no Non si spiega Allora No ma mi fa Paurissima Max Quando lo vedo Quando guardo dietro Ha veramente paura Il nostro Il nostro sebb Non deve avere paura Di nulla Un quattro volte Campione del mondo Può avere paura? No Una leggenda Di questo motorsport Di questo sport Può avere mai paura? No Non deve avere paura Ok Salutamelo E l'hai salutato? Bravo Vediamo di uscire Davanti a tutti Sunoda è in testa Oh Sunoda è in testa Perdona L'hanno fatto Di nuovo? Ma non è appena uscito Sunoda è Ricciardo Come fanno Ah beh Forse loro avevano già La media Dai dai Che abbiamo Il DRS Di Ricciardo Dai E cosa buona E giusta Ricciardo Mi raccomando Facciamo il gioco Di squadra Lo so che in realtà Tu fai parte Della famiglia Red Bull Però Però per favore Siamo nettamente Più veloci di Ricciardo Sia per mescola Sia per motore Però volevo prendermi Sto cavolo di DRS Ho dato anche Max Siamo in tre Attenzione Vai Ricciardo Rimani davanti Rimani davanti Lottate per favore Lottate Lottate per favore Lottate Lasciatemi scappare Dai 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 Bellissimo Bellissimo così Bellissimo così Passato Max Passato Max Passato Max Ma siamo a un secondo e quattro Dai Almeno un giro di riposo Potremmo averlo Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 4,2 secondi Ma lo sai che non me ne frega niente Eppure è uscito in quinta posizione Complimenti Era terzo Bravo Sono veramente Allibido E alle berri Stanno per iniziare gli ultimi due giri di gara Signori Siamo a due secondi E sei da Verstappen La strategia Ricciardo Ha funzionato E anche Alla grande Mi ha permesso di allontanarci Quel tanto che basta Da continuare Ad allontanarci E adesso siamo qui Siamo qui Certo lui secondo Non è una buonissima notizia Che comunque Va a fare 19 punti Avendo anche il giro veloce Però intanto qualcosina Gliela rosicchiamo Dai Qualcosa la rosicchiamo Arriveranno quelle gare In cui Farà pochi punti Spero Noi sicuramente si Spero anche lui Spero anche lui Madonna ragazzi Non potete capire Il caldo che sta facendo Sti giorni E anche adesso Soprattutto Hanno 70 gradi Ci stanno Madonna Sono appena uscito Dalla doccia Devo andare a rifarmela Ci siamo Ci siamo Attenzione Leclerc Torna terzo Eh però È a tre secondi Di distacco Avremmo potuto fare Un bel 1-2 Ferrari Ma Leclerc a quanto pare Era ad altro avviso Non voleva attaccare Verstappen Ha detto vai vai Ti lascio stare Non ti attacco Non ti preoccupare L'ultimo giro È appena inizio Attenzione Due secondi Eh Sta guadagnando Leclerc Va a farlo prima Però Potremmo anche Rallentare Verstappen Per fare Un 1-2 Ferrari Però Troppo pericoloso Troppo pericoloso Pensiamo alla nostra Di gara Prima Prima il campionato Piloti Poi Quello Costruttori Poi magari Alle ultime gare Se serve Si può fare Strategia Adesso Proprio No Adesso Proprio No Due secondi Eh Stava Stava Buttare Ciò Che aveva E' Il nostro Sebastian Vettel Vince Al Gran Premio Di Miami Mamma mia Quanto odio Questa pista Ragazzi Non avete idea La odio Con tutto me stesso Con tutto me stesso Bravi Posso essere d'accordo Col pilota del giorno Ricciardo Posso essere d'accordo Una vittoria magnifica Qui all'autodromo Internazionale Sono d'accordissimo Sono d'accordissimo Non d'accordo D'accordissimo Bravi 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 Godiamoci Sta bella vittoria Godiamoci Sti 25 punti Dovremmo aver superato Di nuovo Norris Dovremmo E Siamo A 6 punti Di vantaggio Con questa vittoria Cioè Con i punti 25 e 19 Eravamo a 13 15 Qualcosa del genere Di Di svantaggio Dovremmo Mi si è staccato Il costo Vabbè Me ne ero neanche accorto Ciao Bene 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 Bravi 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 tutti E' la prima volta A Miami Per Per Sebastian Vettel Lui si è ritirato Prima che venisse Annunciato Il Gran Premio Di Miami O sbaglio Oddio Non ne ho La più pallida idea Non ricordo Non mi ricordo Di aver mai visto Vettel Correre a Miami No Forse no Forse no Forse no Si era già ritirato E' come quarto Ah nel complessivo Nel complessivo E beh giustamente Quindi abbiamo fatto 32 punti Max ne ha fatti 27 Siamo a 5 punti Di vantaggio Classifica 20 punti 20 punti Di svantaggio E due punti di svantaggio Solamente in classifica Costruttore Io direi che va Più che benissimo Più che Ah ma era Piastre addirittura Ad essere secondo Ma ne ero accorto Va bene Va bene Va bene così Va bene così Torniamo a Casuccia nostra Torniamo Rivalità Nelle valutazioni Ah Ci hanno aperto Una nuova rivalità Con Sergent Va bene Siamo arrivati A 70 Non credo Siamo a 67 Forse 68 Ah 69 Uh Buono 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 Continua a crescere Il nostro apprezzamento Direi anche Ci mancheresse Ci mancheresse E va bene Così Va bene Così Qua Siamo Vicinissime Alla prima Al primo livello Con qualcuno Round 7 Round 7 Cosa c'è Imola Non sbaglio Yes C'abbiamo Imola C'abbiamo Sì Va bene Sì Grazie 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 Vediamo qua Se ci arriva No Perfetto Vabbè Uno Uno su tre Insomma Aspettavamo Dei nuovi componenti Eh ma Sono arrivati Gli istrutti Ce ne siamo accorti Non ti preoccupare Allora Facciamo questo Poi Facciamo 903 No grazie 890 No grazie 460 440 Vabbè Rubiamoli questo A lui Facciamolo noi Lui Penserà a fare A fare altro Ragazzi Spero che questo episodio Vi sia piaciuto Un bellissimo weekend Qui a Miami Io vi do appuntamento Per il gran premio Di Imola E quindi noi ci vediamo lì Ciao Ciao ragazzi Dove Grazie per la visione!